Un modello pilota di contrasto al fenomeno criminale di saccheggio dei siti archeologici e di traffico dei reperti opere d'arte. E l'obiettivo alla base della collaborazione istituzionale tra il Parco archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, già avviata con successo da tempo e che si è formalizzata con la firma di un protocollo d'intesa tra i due enti. Nella sede della Procura Torre Annunziata il procuratore Pierpaolo Filippelli e il direttore generale Massimo Osanna hanno firmato il protocollo e illustrato i vari punti di impegni reciproci del Parco e della Procura alla base dell'accordo. È un accordo molto innovativo, una vera sinergia fra istituzioni e con la Procura di Torre Annunziata. Lavoriamo già da tempo ma con questo protocollo diventerà una collaborazione sistematica. Lavoriamo sul problema degli scavi clandestini che è uno dei problemi più seri che è di possibili danni al nostro territorio. Questo protocollo ci serve per lavorare insieme sistematicamente nei prossimi anni e anche individuando delle risorse ad hoc nel nostro bilancio proprio per intervenire con scavi laddove è necessario per salvare il patrimonio e laddove è necessario salvando il patrimonio anche recuperare tracce, indizi che servano poi alla Procura. È un accordo molto importante che riteniamo possa essere pilota nella strategia di contrasto a questo fenomeno, fenomeno illegale del saccheggio e l'immenso patrimonio artistico italiano. La sinergia tra le istituzioni è assolutamente un'arma vincente per il contrasto a questo tipo di attività illecite. Abbiamo acquisito attraverso la collaborazione con il Parco archeologico delle fondamentali prove per individuare innanzitutto la condotta illecita, per comprendere le dimensioni e la solidà e per individuare gli stessi artifici. Scopo del protocollo dunque l'attivazione di un costante e rapido canale di scambio di informazioni e notizie e l'attuazione di procedure condivise nel rispetto delle reciproche attribuzioni e competenze volte a interrompere l'azione criminale e arrestare la spoliazione di siti archeologici spesso reiterata scongiurandone la prosecuzione. La validità del protocollo sarà di due anni con possibilità di rinnovo.